Ti stiamo a fare una domanda? Sì Sei qui per la mostra di Griffa? Sì Che cosa ne pensi? Eh, sono appena arrivato, mi sembra che c'è una grande energia L'energia in che cosa la... tangibilmente in cosa la senti? Nei segni, nei colori, sembra un artista diventare con un'energia immenso Tu sei un artista, un giovane artista, diciamo Quanto secondo te il sistema italiano favorisce i giovani artisti, anche i più giovani? Beh, diciamo che non è come negli altri paesi Però secondo me se uno ha voglia di fare ci sono tantissime cose che si possono fare Sia in Italia che all'estero Quindi, anche se non sembra, ma ci diamo tutti da fare E secondo me può essere un buon periodo per tutti Delle cose chiave da fare, diciamo, per difendere il proprio lavoro Secondo te quali sono in Italia? Una sola, lavorare Delle cose chiave da fare, diciamo, per difendere il proprio lavoro E secondo me buon periodo per fare, diciamo, per difendere il proprio lavoro Ma, voglio! E'ergo ma, voglio! Grazie a tutti